Buongiorno a tutti sul Gianno Yacht 60, una novità che abbiamo presentato a marzo del 2021 ed è esposta per la prima volta in Italia. È una barca di 60 piedi, quindi circa di 19 metri, con una larghezza al baglio massimo di 5,20-5,30 metri e la caratteristica più estetica, più importante ma soprattutto funzionale è il nostro design particolare per un passaggio molto comodo dal pozzetto di poppa a prua, quindi non bisogna scavalcare nessun divano o per passare dal pozzetto andando a prua nessun tipo di ostacolo, ma dalla postazione del timoniere si può passare liberamente con un passaggio walk-around che va da poppa a prua facilmente. Gli interni abbiamo diverse versioni, quindi diverse layout che possono essere personalizzati, ovviamente si va da una cabina armatoriale a poppa a due cabine a prua e viceversa, tutto è anche molto personalizzabile nei limiti dei layout che noi proponiamo, diverse essenze di legno e comunque con un design molto mediterraneo e molto piacevole. Il nostro obiettivo è quello di produrre imbarcazioni che possono essere imbarcazioni per tutti, la nostra filosofia è che il mare è per tutti e quindi cerchiamo di fare barche per tutti. Il trend del mercato è un trend ovviamente del mercato sicuramente positivo, che è stato forse un po' messo in pausa dalla pandemia, ma è stata solo una pausa e cerchiamo di lasciarci alle spalle velocemente, è un trend positivo, le vendite vanno molto molto bene, ovviamente il tutto legato a una situazione mondiale della criticità sul reperimento delle materie prime e dell'elettronica, dei materiali ovviamente necessari per la costruzione delle imbarcazioni. Abbiamo ancora pochissime unità per il 2022, ma stiamo già vendendo produzione 2023. Vendiamo in tutto il mondo, fortunatamente abbiamo clientele in tutto il mondo. Il salone è sicuramente un momento molto importante, abbiamo sempre creduto nel salone nautico, speriamo che la nuova progettualità del salone rilanci nuovamente il salone ad un'internazionalità come una volta e quindi crediamo che sia un momento importante e speriamo che ritorniamo agli anni d'oro del salone.